Zephyro, lo zucchero incredibilmente fine, immediatamente solubile, da Eridania. 24 ragazze sognavano di partire in tournée a bordo del bus di Superstar. Una giuria di esperti e il pubblico da casa ne hanno selezionate 12, ma 3 di loro rischiano già di abbandonare quel sogno. Chi vuoi salvare tra Rosalie, Gemma e Laura? Chiama all'16422 o manda un sms al 48422. Con Michelle Hunziker, Superstar Show. Martedì alle 21, Italia 1. Sei una superstar. Oggi c'è un modo molto piacevole di svegliarsi. Le nuove nastrine. Ancora più soffici, ancora più fragranti. Nastrine e mulino bianco. Mangia sano e vivi meglio. Ecco i grandi protagonisti dell'autunno. Da oggi fino al 31 ottobre, tutti i telefoni Vodafone costano 30 euro in meno. Corri a scegliere il tuo. Da Vodafone. Mettersi comodi è molto importante. Fatelo bene. Divani e divani by Natuzzi. Il più grande produttore di comfort del mondo. Tagliatelle Emiliane Barilla. Dall'amore per la tradizione, un piacere senza fine. Emiliane Barilla. Vere Emiliane. Bye bye rosetti lunga tenuta che seccano le labbra. Benvenuto Forever Lip Color. Da Maybelline New York, rosetto lunga tenuta che dura ore e ore. Lascia le tue labbra morbide. Forever. Nuovo Forever Lip Color da Maybelline New York. Maybelline New York. Ehi Ray, da Blockbuster trovi il tuo film o è gratis? Wow! Divertimento garantito! Blockbuster ha così tante copie di Matrix Reloaded che lo trovi subito. O lo noleggi gratis la prossima volta. Yahoo! Make it a Blockbuster night. Oh che odore! Ma la mamma ha un nuovo trucco. Nuovo Glad Micro Spray bagno. Piccolo pratico e si applica alla parete. Un solo tocco e che profumo! Nuovo Glad Micro Spray bagno. Praticamente geniale! E per gli altri ambienti della tua casa, Glad Micro Spray basta un solo tocco. Il fumo uccide. Vuoi rimpiazzare tu le vittime? L'industria del tabacco negli ete. No, si è rotto! Niente paura. Incollalo con Pattex Ripara Extreme. Sicuro che resisterà? Certo. Pattex resiste ai colpi, alle torsioni, all'acqua e alle condizioni estreme. Pattex. Forza professionale per il fai da te. Radio d'epoca da collezione. Un'opera esclusiva che ti affascinerà con fedelissime riproduzioni in miniature e perfettamente funzionanti di famosi modelli d'epoca. Prima uscita con la Radio Philips Coda di Pavone a soli 4,90 euro. In edicola da Fabri Editori. Arriva McCain. Patate così, non le avete mai viste. Gustale anche al forno con Kid Smile e Forno Chips da McCain. Mentre la TV Mentre la TV Cantava Cantatù sei unico. Luisa, non sai che per i più esigenti c'è Cantatù Party Deluxe. Design super elegante e un suono di qualità superiore. È già mio! Ragazze, rifattevi il look. C'è anche Cantatù videocamera. E sei subito in TV. Dai voce alla tua musica. Canta tu con me. Il videocaraoke è solo Cantatù. Giravolte. Un buon formaggio fresco che diventa caldo e croccante e fa impazzire tutta la famiglia. Giravolte. Da un lato nutrienti, dall'altro divertenti. Guarda, un S.O.S. Bloccato cereali Nes... Nesquik. Ha finito i cereali Nesquik. Aiutiamolo. Su, si va! I cereali Nesquik arrivano! Partiti! Cereali Nesquik al cioccolato! I cereali al cioccolato Nesquik! Tu ce li hai? Bella festa ieri, vero? Mmh. E anche stavolta abbiamo fatto tardi. Con Nivea 4 Men Crema Q10 la pelle affaticata ritrova energia e tono ogni giorno. Non capisco perché ti fai tutto questo. Nuova crema Q10 rivitalizzante. Energia pura per il tuo viso. Italia 1 Che cosa volete? Dobbiamo realizzare colorato caffè caro. Ma tu come te chiami? Ah, attala! Ma che sei sordo? Ma che siete degli spiri di Zelig? A come A che risate! Doppia T come Totò e Peppino! I come Italia 1 L come l'uno di sera E A come adesso venghi di strapo la corna Pignati telecomandi Voglio fare una strada! Colorado Caffè Live Domani sera 23.15 Italia 1